Clamorosa protesta del sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha trascorso la notte all'interno del Palazzo del Comune con alcuni consiglieri per manifestare contro l'ingiusta, a suo dire, distribuzione delle risorse del Recovery Plan al Sud. Carlucci, con altri sindaci della provincia di Bari, ha annunciato che parteciperà alla manifestazione di protesta prevista a Napoli domenica 25 aprile, alla quale hanno già aderito 500 sindaci del Meridione. Io insieme a tanti altri sindaci, il sindaco di Ruvo, di Bitetto, di Giovinazzo, di tanti altri comuni pugliesi e tanti altri comuni del Sud, saremo a Napoli domenica 25 aprile insieme al sindaco De Magistris per consegnare al prefetto un documento con il quale noi chiediamo non solo la revisione di questa quota, ma presenteremo anche un elenco di opere strategiche necessarie e vitali per il Sud, perché altrimenti rischieremo di rendere eterno questo sottosviluppo che purtroppo ci perseguita da 160 anni. Grazie! Grazie a tutti.